Promotti, altro che scalare che non attacceri, io su questi pedali sto tentando un'impresa eroica! E quale? Valor di perdere peso! Trova a saltare qualche passo! Mmm, ma non la colazione con i frollini del signor Balocco! Venite pronta! Uè, ci sono i bastoncini, tenetemi! I bastoncini sono frollini unici e dal sapore autentico e sono preparati con ingredienti genuini, seguendo la ricetta originale di Balocco. Mmm! Senti che profumo inconfondibile di abrumi! Claro, sento l'inconfondibile gusto spettacolo! E questi qua? Mmm, hanno una forma che mi ricorda un qualcosa! Eh, Brumotti, ti presento le girandole! L'ultima grande novità del signor Balocco, golosi frollini con panna fresca e cioccolato! Altro che saltare la colazione, squisitesse, saltatemi in bocca! Buon appetito, Gabibbo! Del resto, i frollini del signor Balocco sono irresistibili! Una linea gustosa e completa per la prima colazione di ogni giorno! Balocco! Fate i buoni!